Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi un video un po' particolare perché stavo guardando un'intervista prima su YouTube di Warren Buffett e mi è venuta un'idea un po' folle che però secondo me potrebbe essere veramente carina per tutti. Sostanzialmente nell'intervista parlava di come a 11 anni lui avesse fatto il primo investimento che erano trazioni, non ricordo ora quali fossero, ma ha detto che se l'equivalente che ha investito in quella trazione lì lo avesse investito in un ETF sulle semplici 500 e avesse investito i dividendi al tempo dell'intervista avrebbe avuto l'equivalente di 400.000 dollari. E' per questo che ho deciso di fare questo video in cui vi andavo a sensibilizzare su questo tema ovvero il dividend growth investing. Per farlo oggi vi spiego qual è l'effetto palla di neve oppure l'effetto valanga. Prima di iniziare però l'idea folle che ho avuto è quella di il primo febbraio iniziare un nuovo capitolo sul mio canale dove andiamo a creare insieme un portafoglio di dividend growth investing. Per farlo come broker ho scelto Freedom Finance. Questo non è un video sponsorizzato ma potete trovare il link invito a un amico in descrizione che fa guadagnare un'azione gratuita a voi e a me. Ovviamente quell'azione lì successivamente la potete vendere e investire gli altri soldi ma ho semplicemente deciso di prendere questo broker qua perché lo voglio provare. E visto che 3212 lo utilizzo già nel tuo portafoglio, visto che voglio dedicare un broker solamente per il dividend growth investing e soprattutto solo per questa serie qua, ho deciso Freedom Finance. Se avete piacere di iniziare con me il primo febbraio trovate il link in descrizione. Premetto che il conto l'ho aperto esattamente 10 minuti fa prima di registrare il video quindi ci mettete davvero poco. Se avete piacere di seguirmi in questa serie potete farlo tramite il link in descrizione. L'effetto palla di neve o l'effetto valanga non è altro che una metafora che cerca di farci capire come una piccola palla di neve con la gravità inizia a rotolare giù dalla montagna e nel rotolare accumula e incorpora della neve aumentando la sua dimensione. Aumentando la dimensione aumenta progressivamente anche la velocità e la sua capacità di incorporare e inglobare altra neve. E così di conseguenza attivando quello che da tutti in economia viene chiamato interesse composto. Ora cancellate dalla vostra memoria la metafora e pensate la stessa identica cosa con i dividendi. Credetemi che ora vi faccio un piccolo esempio che vi farà aprire gli occhi sulla potenza che ha l'interesse composto sul vostro patrimonio. Per farlo utilizzo un calcolatore che potete provare anche voi se ne avete piacere magari vi lascio il link in descrizione che è un calcolatore molto semplice. Per farlo semplicemente andiamo a simulare un piano di accumulo su in questo caso qua un'azione singola ma quello che faremo noi è creare un portafoglio di azioni vaide che aumentano il dividendo e che soprattutto sono solide. Per farlo ora vi faccio un esempio e andiamo a prenderci Microsoft che a mio avviso è una delle migliori aziende per il dividend growth investing ma poi ci farò video particolari in cui andremo a selezionare le azioni da aggiungere nelle portafoglie. Quindi vi ricordo se avete piacere di iniziare questo percorso con me potete farlo probabilmente il primo o nei giorni successivi inizierò con il primo video quindi secondo me è una cosa carina che crea anche un po' l'effetto community. Allora in questo caso qua andiamo a selezionare come investimento iniziale io pensavo una cosa del tipo fare un piano di accumulo all'incirca un 100 euro settimane quindi all'incirca un 400-500 euro mensili supponiamo di investire 100 euro settimane quindi 400 euro mensili ovviamente questo lo faccio nelle mie disponibilità se voi avete più o meno soldi utilizzate semplicemente una proporzione se avete possibilità di fare 800 euro semplicemente raddoppiate quello che investo io o se ne avete 200 le dimezzate è una cosa molto semplice. Il valore attuale di Microsoft arrotondiamo è 248 l'annual dividend che è attualmente basso perché se ne andiamo a considerare è un 1% quindi 2,72 che è il dividendo per azione attuale facciamo le cose corrette mettiamo 248.11.10 e mettiamo 2.72 poi ovviamente il dividendo viene pagato ogni trimestre supponiamo che è la cosa più importante di reinvestire i dividendi e poi andiamo a stimare quella che è la crescita annuale dell'azione e del dividendo questo per simulare un piano di accumulo quindi ovviamente se lo simulo un piano di accumulo e decido di investire 400 euro mensili quindi se l'azione tra un mese vale di più ne acquisterò di meno perché ovviamente l'investimento è lo stesso ma l'azione è aumentata quindi ne posso comprare di meno quindi andiamo a vedere quanto è cresciuto il dividendo di Microsoft negli ultimi 5 anni per farlo andiamo su Seeking Alpha andiamo su Dividends andiamo a vedere Dividend Growth allora negli ultimi 10 anni il dividendo di Microsoft è cresciuto all'incirca 12% all'anno ovviamente non mi aspetto che per i prossimi 30 anni il dividendo possa crescere a quei ritmi lì quindi stare più conservativo dobbiamo anche considerare che su quel dividendo lì andiamo a pagarci il 26% di imposta quindi dobbiamo anche considerare quello ovviamente non mi posso aspettare che il dividendo netto mi cresca del 12% all'anno quindi stiamo più conservativi consideriamo una diminuzione della crescita e un imposto sul dividendo quindi direi che una crescita per i prossimi magari 30 anni potrebbe essere tra il 7 e l'8% stiamo un po' più alti un attimo e stimiamo un 8% all'anno quanto mi aspetto possa crescere Microsoft per i prossimi 30 anni annualmente? secondo me stando abbastanza conservativi secondo le mie stime Microsoft dovrebbe crescere all'incirca di un 10-12% nei prossimi 5-10 anni quindi mi aspetto che la crescita diminuisca ovviamente nei prossimi 35 anni quindi stando conservativi mi aspetto magari un 6-7% all'anno potremmo anche stare un po' più alti e stimare di nuovo un 8% e poi magari andiamo ad aggiustare le cose quindi calcoliamo e vediamo cosa ci esce fuori allora questo probabilmente per chi non è del settore potrebbe stupire però questa è la crescita che avrebbe il vostro patrimonio nei vari archi temporali allora dopo 5 anni avremmo investito 24.000 euro all'incirca e avremo un valore di 30.000 euro avendo ricevuto 280 dollari di dividendo e l'altra parte è semplicemente l'aumento delle quotazioni dell'azione che secondo me per i prossimi 5 anni è abbastanza scontato che Microsoft cresca all'incirca di un 8% all'anno andiamo a vedere come l'effetto si alzi tantissimo col passare degli anni infatti dopo 10 anni abbiamo 48.000 euro investiti e il guadagno e il patrimonio sarebbe già all'incirca di 80.000 dollari tantissimo ragazzi ma guardate come è esponenziale la cosa guardate dopo 25 anni avrete investito 120.000 dollari e il vostro patrimonio varrà 450.000 dollari cioè vuol dire che se io adesso potenzialmente investo in un'azione che mi cresce il dividendo dell'8% all'anno per i prossimi 25 anni cosa super fattibile e mi aumenta il prezzo dell'8% all'anno per i prossimi 25 anni cosa anch'essa super fattibile e investendo solo 120.000 dollari in 25 anni che mi sembra tantissimo ma non lo è perché investendo 400 dollari al mese li raggiungete in 25 anni quindi una cosa super fattibile o 450.000 dollari capite quanto è importante essere costanti e sfruttare l'interesse composto cosa significa avere un dividend yield on cost del 6% vi faccio questo esempio qua immaginate che io attualmente compro un'azione Microsoft la pago 248 dollari per azione il dividendo che ricevo in un anno è 272 quindi ho un dividend yield dell'1% quello che è espresso qua su Yahoo Finals cosa mi succede se tra 5 anni l'azione mi è raddoppiata vuol dire che ho un'azione che mi vale 500 dollari in quei 5 anni Microsoft magari ha raddoppiato anche il dividendo quindi è passata da avere 2,72 dollari come dividendo ad avere 5 dollari per azione quindi io avrò sempre un'azione che mi vale 500 ho un dividendo annuale di 5 dollari e quei 5 dollari se noi facciamo una proporzione calcoliamo quante percentualmente sui 250 che è il mio investimento iniziale capite che lo yield on cost è all'incirca del 4% quindi il rendimento che ho sul capitale investito è altissimo ed è per quello che amo le dividend growth stock ora come potete vedere infatti se noi andiamo a vedere la crisi del dividendo su 35 anni otteniamo un patrimonio di 1.200.000 dollari avendo investiti solo 170.000 capite quanto è fuori di testa cioè a me fa lavoro in questo modo ma mi fa sempre impressione è assurdo quanto è bello l'interesse composto ora vi faccio vedere quanto cambia anziché investire 400 dollari investire neanche solo 500 quindi 100 euro in più a settimana passiamo i 35 anni da 1.200.000 a 1.500.000 cioè 300.000 dollari in più avendo investito semplicemente 100 dollari in più al mese pensate quanto cambia poter raddoppiare il proprio investimento iniziale e l'investimento del piano d'accumulo assurdo e ora la cosa ancora più assurda vi faccio vedere quanto cambia se non avessi reinvestito i dividendi questo è il mio patrimonio avendo reinvestito i dividendi questo è il patrimonio senza reinvestire i dividendi 300.000 dollari in meno semplicemente avendo ottenuto i dividendi anziché reinvestirli e considerate che io ho preso un'azione che ha un dividendo molto basso perché se noi prendiamo un'azienda che ha un dividendo più alto tipo coca cola vi faccio il piccolo esempio mettiamo 60,54 come prezzo a dividendo annuale mettiamo 1,76 ovviamente dobbiamo diminuire la crescita supponiamo un 5% di aumento del dividendo anno e l'azione ovviamente cresce di meno supponiamo anche qua un 5% anno ci può stare guardate quanto cambiano i punti percentuali questo è sempre l'effetto dell'interesse composto è quello che mi piacciono di più le aziende che hanno un dividendo basso attuale ma che crescono molto più velocemente ovviamente è più difficile individuarle però lavoreremo su quello detto questo spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile trovate il link in descrizione per freedom finance e ragazzi mi raccomando cerchiamo di portare avanti questa serie che secondo me sarà molto figa e cerchiamo di farlo tutti insieme come una bella community detto questo spero che il video vi sia piaciuto lasciarmi un like, un commento e ci avviciniamo al prossimo video ciao a tutti